Ciao, ciao a tutti, un bacio a tutti, come state? Che inquadratura hai fatto Erika? Una mano te fugge via, ma perché volevo entrare pure pezzi e il risultato è che ho fatto la schifezza. Ciao, come state? Io ho cercato di farmi una sorta di boccoli oggi, ma non è possibile proprio muoversi e invece di tirar sempre su sta coda di cavallo che sinceramente non mi posso vedere più, o dico adesso mi lascio giù il ciuffo, io non so più come mettermi sto ciuffo, caldo, metto così sembra una cretina, lo lascio sciolto, no, non è questione di età, è questione di peso, no, me ne frega niente, è una cosa proprio, è una pace mia interiore, che ho, non riesco probabilmente a condividerla, ma io sto bene, sono felice, non me ne va di fare, diciamo, lo sforzo di essere di più, tanto, sono leggermente paunazza, sì, questo io lo posso dire, ma prima di incominciare a parlare a ciavatta, vi volevo dire che questo è un video, collaborazione con la mia amica Lucrezia, ti porto nel cuore, ti voglio bene tesoro, del canale Una Youtuber per Casa, e sotto nell'info box vi consiglio di andare a vedere il video, che in questo caso è gemello al mio, perché noi facciamo i prodotti finiti e preferiti del periodo, o anche prodotti che non ci sono piaciuti, ovviamente questo è del mese di ottobre, e quindi sono qui a condividere con voi la ciavatta che me trovo, perché io quando c'è questo video, io chiacchiero, troppo, dice Enrica, perché negli altri uguale, però in questo a maggior ragione, io noto con piacere, ma anche con profonda tristezza, che praticamente nei video spesa, ma negli altri video, non che questo mi tocchi, perché io, se a me un video piace, se agli altri non piace, pazienza, cioè parlo di tipologia di video, no? Però mi rendo conto che non tutti, dicono Enrica, parla di più, ma io ce parlo di più, ma io parlo anche negli altri video, che non sono video spesa, però evidentemente nel video spesa chiappa di più, perché uno fa un pensiero, vede una cosa, vede un prodotto, qui ci sono le idee. Ok? Allora, Enrica, che prodotti ti sono piaciuti sto mese? Più o meno quelli dei mesi scorsi. Enrica, che prodotti non ti sono piaciuti? Beh, io sono sempre lì, i prodotti li sapete, quelli che mi piacciono, non mi piacciono, a meno che io non prenda una vera novità, ho ben poco da farvi vedere, sempre le stesse cose, è impossibile, anche perché ultimamente ho adottato il sistema che è inutile tenere 8 miliardi di prodotti a disposizione, mi piace tenerne uno, massimo due, uno per il bagno, uno per la cucina, uno per i vetri e uno per terra. Basta, cioè non è che sto a fare chissà quali giri, ecco, multisuperficie, ma poi fermate là, ecco. Quindi i prodotti in casa sono quattro, ci erano sempre quelli e quindi diciamo che alla fine il discorso è sempre lì. Quando ho fatto il video, quello lì, dei prodotti comprati al risparmio casa, comunque vi avevo anche accennato che ciò che non mi era piaciuto è ciò che mi era piaciuto. Quindi diciamo, a volte mi ripeto, no? E questo non sia mai. Quindi ho pensato, che video hai pensato di girare con Lucrezia, che lei è tanto amore, invece io sempre all'ultimo minuto rabbatto su qualcosa. Ma io e Betsy, che tra l'altro è accesa, guardate che meraviglia, e non è il fuoco vivo, perché non è freddissimo. Infatti questo essere così paunazza è proprio perché qui dentro, qui dentro si brucia. E il fatto è che oggi è una giornata umida, piovosa e ventosa. Quindi l'ho accesa a una temperatura bassissima. Dice, ecco, come te regoli, con i cipetti piccoli. Metto il cipetto di legna e lo lascio andare serenamente, perché stasera per la prima volta voglio utilizzare il forno, che è questo qui, e ho tirato già fuori la teglia, che è la leccarda, come la chiamate, che è in dotazione con la... qui è in dotazione con il... come si chiama? Betsy, amore, perdoncata... E la uso per la prima volta. Facendoci che, ricadde le semplici pizzette, volevo provare a vedere se... non facevo la leccarda piena, facevo delle pizzettine piccoline, insomma, per dimezzare un attimo i tempi, per fare una cosa veloce e vedere un attimino come mi regolavo. Non c'ho mai cucinato. Oggi l'ho pulito perché era un po' impolverato, dato dalla polvere della macchina stessa, di Betsy stessa, data dalla legna, data un po' dal fumo, che non c'è però, dato un po'... quando apri per fare legna, quello, meno male, no? Un pochettino... no, fumo, diciamo polvere, nemmeno polvere, la cenere, come si chiama? Lo zabbillo, come si chiama? Quindi c'è può stare qualcosa, però io oggi l'ho pulita, volevo dire a quelle persone che pensano che faccia fumo o non fa assolutamente fumo, questa è una delle ultime create, quindi ha proprio tutti i meccanismi per non far fumo e sinceramente ha il tubo questo qua di scarico che è veramente largo, ma proprio largo largo, quindi tira su che è incredibile in casa. Cioè io lo posso aprire questo qua e non c'è nessun fumo, io volendo posso stare a cammino aperto e non c'è nessun fumo. Non lo tengo aperto perché c'ho il gatto che è a tratto. Ecco, quindi se io posso dire una cosa che di questo mese non mi piace è che accendendola, oggi l'ho accesa presto perché dopo stasera mi serve, ma le altre volte l'ho acceso un'ora, due ore massimo la sera all'imbrunire, soprattutto col cambio, subito pare che il tempo ne ha risentito, subito, e quindi ha fatto subito brutto, umido, notte presto, e pare che le temperature si abbassano, no? Dici Erika, hai fatto? Disco, un periodo troppo lungo, e dove te volevi allacciare? Ma che cavolo stavo a dire? No, perché l'ho detto questo? Non mi verrà mai. Vabbè, ma tanto che... Cioè, non è che sto dire la verità assoluta, capito? Uno fu i fuggentieri. Ma perché io praticamente... Ma che stavo a dire? Sì, ma perché l'ho detto questo? Ah, è del gatto. Del gatto che ci si butta... Ci si butta dentro. Nel senso che lui è attratto, capito? Da questo. E quindi lui, se questo sta aperto, lo sportello, lui tende a mettersi su due zampe. E il tempo che si mette su due zampe, ha affumicato tutto, ha affumicato, capito? Mi dispiacerebbe. Quindi diciamo che lo devo tenere chiuso, ma ecco, ho dato un pochettino di fiammella, ma niente di più. Questa è tecnologica, non fai fumi. Sto andando a ritroso col pen... Cioè, una parte del mio cervello sta andando a ritroso nel pensiero, ma non mi viene forse da quello del gatto. Quindi c'è cucino. Quindi c'è cucino. E quindi il bello di questo mese è averlo accettato. Chiusa parentesi. E quindi c'è cucino. Ecco. So, paunazza. Qui fa caldo davvero. Qui è da bronzatura. Se io lo abbro, io mi bronzo proprio, mi rociolo. Perché fa caldo. Poi questo ciuffo non aiuta sicuramente. Li devo tagliare. Adesso li taglio. Allora, li devo praticamente svuotare. Questo grigio è bellissimo. Non si vede. Questo grigio è bellissimo. Questi occhiali sono da lettura, quindi tendono ad andare in basso. E io, ecco, tendo a tirarli su. Allora, voi non vedete, forse vedete troppo bianco, ma è grigio. E è un bel grigio forte, ecco. Quindi, diciamo che l'unico prodotto che gli do è l'antigiallo. E l'antigiallo viene dato anche a chi si fa bionda bionda, ecco. E che si tende a fare troppo paglierino. Ecco, troppa, troppa paglia. Invece è così, diciamo, che io do un attimo un po' il tono, ma il colore c'è, il grigio del capello, che è meraviglioso. E lo intensifica, diciamo, no? E devo dargli una bella tagliata, una svuotata, perché io sto praticamente così. I capelli sono a cosa a punta e vengono fuori, perché sono pieni. E non avevo scalati tanto quest'estate, perché volevo farmi la coda. Volevo farmi la coda, e quindi dicevo, se io li taglio troppo, poi ho queste zeppe calde, mi fa caldo. Invece così facendo, tiro sui capelli, solo che adesso sono diventati troppi lunghi, perché questo è veramente lungo. E quindi devo, assolutamente... Erika, ma perché te sei andata a rovinare il boccolo? Ciao. Quindi le devo sfolti tutti, quindi devo fare un taglio, ma ancora non sono riuscita ad andare, perché gli ultimi del mese, i primi del mese, sono stati un po' concitati, perché Giulia aveva ponte con la scuola, quindi fino a due non è andata a scuola, finito il sabato è ritornata il giovedì, e praticamente siamo andati un po', diciamo, in giro, e abbiamo fatto dei lavori a casa, quindi gli ultimi del mese poi non è stato possibile, quindi diciamo che ci siamo organizzati, devo andare a tagliare i capelli, intanto lo metto sempre su Instagram quando io mi togli i capelli, perché così so quando l'ho tagliati la volta scorsa, ne parlavo con la parrucchiera, e sono il 17 di maggio, li ho tagliati, quindi adesso li devo ritagliare, e non farò mai tagli pazzi io, per il semplice motivo che comunque li farò sempre scalati, mi piacciono. E poi Erika che volevi dire? Niente, ah allora, che mi è piaciuto sto periodo? Allora, innanzitutto accendere questa, gli ultimi del mese è stato meraviglioso, ma mi sono anche vista alcune serie, allora, ho amato tantissimo Tutto chiede salvezza, un film meraviglioso su Netflix, è una serie di sette episodi, perché sono sette i giorni della settimana, praticamente è la storia di un ragazzo che si sveglia in psichiatria, scusate, stavo gingillandomi, è un ragazzo che si sveglia in psichiatria e non ricorda che cosa ha fatto, l'ultimo suo ricordo è che è rientrato a casa e si è allungato sul letto, si ritrova in psichiatria invece legato e in una stanza piena di persone con evidenti problemi. In questo, mano a mano che passano le ore o anche un giorno, credo che lui ritorna in mente che cosa sia successo e ne è spaventato da tutto ciò, rifiuta tutto ciò, i suoi compagni di viaggio per questa settimana sono sei, allora uno, due, tre, quattro, cinque, persino a camerata da sei era, cinque persone accompagneranno questo ragazzo in questa settimana. Io vi assicuro che ho pianto, ho riso, ho sorriso, sono stata a bocca aperta, sono rimasta a bocca aperta, quando è finito mi sono commossa tantissimo, è stupendo, è un film italiano, è una serie italiana, vi assicuro che è stata recitata così bene. io a volte vedo delle serie italiane, rimango scioccata dalle interpretazioni, oddio c'è un ladro, mi sono al telefono proprio là, ricordate, ma le serie italiane, ma voi vi rendete conto io con chi devo combattere, io devo combattere con queste compagnie che chiamano, salve, stiamo comunicando con tutti i cosi insomma della provincia, perché ci sarà un aumento in bolletta telefonica, ma che, ma io, guarda davvero, io sono sconvolta, dici Erika, fai il blocco dei call center, non lo posso fare perché il numero di telefono, per nostra scelta, non compare nell'elenco telefonico, ed essendo, ma sono anni che non compare nell'elenco telefonico, non c'entra niente YouTube, non potrebbe pensare per YouTube, no, 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 proprio noi quando siamo venuti a vivere qui, abbiamo deciso di non mettere il numero in elenco telefonico, perché non vogliamo rottura di, non desideriamo telefonata, telefonata da gente che non ci interessa proprio, quindi noi abbiamo tolto dalla rubrica, e quindi io non posso fare, diciamo, questo stop ai call center, perché il mio telefono deve essere registrato, quindi ci ho già provato, e non funziona, adesso lo dovrò fare sul cellulare, perché sul cellulare è attivato, me l'ha detto Wing, devo semplicemente dall'app, dice Erika, ma che ce prego, vabbè, allora questa serie, e questi occhiali già li porto, questi neri non mi servono, anche perché questi neri, mi dispiace tanto, ma mi si sono spaccati, non è che mi si sono spaccati, c'è un graffio, che non se ne vedrà mai, c'è un graffio in verticale, su una lente, e che ogni tanto mi dà fastidio, ecco qui, ma è piccolissima, non è 5 mm, ma nemmeno è, qui c'è al centro, se devo fare qualcosa, che guardo in basso, non mi dà fastidio, ma se devo fare qualcosa, che guardo, ecco a voi dritti, allora sì, vedo questo filo, qui mi dà fastidio, quindi ho cambiato, dice Erika, vabbè, tutto chiede salvezza, praticamente è una serie, meravigliosa, io ve la consiglio, se avete Netflix, vedete, perché è veramente stupenda, e altra serie, che ho iniziato, e finite i primi di novembre, è la Vatican Girl, praticamente la ragazza del Vaticano, Emanuela Orlandi, è una serie, una ricostruzione, fino agli ultimi aggiornamenti, della scomparsa di Emanuela Orlandi, io vi consiglio anche questa serie, non la commenterò, perché davvero è incommentabile, e però vi consiglio di vederla, vi consiglio molto di vederla, perché apre un po' gli occhi su tante cose, quindi è veramente interessante vedere, io sono rivasta scioccata per alcune cose, che purtroppo mi era fuggito, perché la serie ovviamente come tante persone, quella storia, la vicenda, l'orrore, come tante persone è stato seguito anche da me, però mi mancava un passo, un perché, una persona mi mancava, ecco questa persona a me è caduta proprio dal pero, almeno, quindi niente, quindi questo mese mi sono vista queste due serie, e mentre la prima, tutto chiede salvezza, l'ho amata, e la rivedrò, perché è bellissima, ma vi volevo dire questo, la recitazione è stupenda, adesso quando guardiamo a volte queste serie italiane, io non lo so chi ce li metta a recitare, però per me è impossibile sentire una che dice, oddio, un ladro, mamma, stai bene, papà, tutto posto, dobbiamo andare, e lo vedo in molte serie italiane, questo tipo di recitazione, io, per carità, ognuno ha il suo lavoro, io non ne faccio manco uno, ma questo proprio zero, su tutto chiede salvezza, io, ci sono state alcuni momenti, che proprio, mamma, mi sono sentita trafiggere, è stato meraviglioso, mi è piaciuta tantissimo, quindi io ve la consiglio, ve la consiglio, mentre su Manuela Orlandi, non mi è piaciuto, aver appreso determinate cose, ecco, quindi non mi è piaciuto, e quindi questo lo posso dire, allora, io questa sera farò la pizza, sono veramente contenta, se esce, lo metto su Instagram, e se non esce, lo metto su Instagram uguale, perché il bello di me, è che non nascondo niente, faccio vedere tutto, ecco, vi mando un bacio, spero che il video vi sia piaciuto, la chiacchiera pure, ah, vabbè, ma questo non c'entra niente, però ve lo voglio dire, ho sterilizzato l'indemoniato, del non nominabile, sit, l'abbiamo sterilizzato, e non c'entra niente con il mese di ottobre, è novembre adesso, ma io me ne parlo uguale, l'abbiamo sterilizzato, e io vi posso dire una cosa, a parte ieri, che io non mi sono spostata da lui, l'ho svegliato, l'ho svegliato, questa notte alle due, lui si è svegliato, non è che si è svegliato, perché lui sonnecchiava, e ovviamente aveva dolore, anche se quello che lui ha, lo copre per cinque giorni, antibiotico, antidolorifico, e un'altra cosa, per cinque giorni, ha detto, quindi per questo stai tranquilla, che nel dolore non lo sente, infatti lui non ha mai, ha avuto dolore, non l'ho mai sentito, più che altro, ecco addirittura correva, ecco, il fatto è che non mangiava, ed era molto mojo, molto molto, quindi stanotte, insomma, sono stata con lui, fino a che non sono andata a letto, ma le due mi sono rialzata, per andarlo a controllare, lui era sveglio, perché stava sul tappetino, che ha scelto ieri, di fronte alla porta, non si è mai spostato da lì, non gli è mai interessato, che qualcuno camminasse davanti, non gli è mai importato niente, l'abbia lasciato sempre tranquillo, se non io ogni tanto andavo lì, e mi accertavo, che andasse tutto bene, ecco, quindi lui, si faceva far tutto, non è che, te guardava per dire, fam alzata qua, e poi vedi che te combino, invece, questa notte alle due, quando sono venuta qui, lui quando mi ha visto, proprio ha sbarrato gli occhi, e proprio si è buttata a pancia all'aria, le fusa, le comandate, mamma mia, dico che amore, impastava, lui tutto contento, me lo so preso in braccio, me lo so baciato, e l'ho portato nel lettone con me, lui ha cominciato a impastare sulla coperta, tutto contento, si è svegliato definitivamente, e oggi Erika come sta? oh, io ve devo dire una cosa, oggi sarà che reduce dall'operazione di ieri, ma oggi è veramente un gatto, normale, che gioca, felice, e che fa gli agguati, e che sonnecchia, e che poi si alza e mangia, e poi va a fare i bisognini, un gatto, ti dicevi rega, perché gli altri giorni? gli altri giorni era come se in casa io avessi una banda di gatti, teppisti, fatti probabilmente, perché mi ha sfasciato tutto, lui mi ha sfasciato tutto dentro casa, invece oggi si comporta da gatto, quindi sono felice, domani non lo so, ve lo saprò dire, vi mando un bacio, vi voglio bene, ci vediamo in un altro video, e niente, continuate ad amarmi, anche se sono improponibile, ciao!